Scopriamo cosa fa Giannelli. Ehi Gian, cosa stai facendo? Sto prenotando un biglietto per Cracovia. Ah, sì, perché noi a Cracovia ci siamo. E voi? Fatti vedere cosa fa Giannelli. Ehi Gian, cosa stai facendo? Sto prenotando un biglietto per Cracovia. Scopriamo cosa fa Giannelli. Ehi Gian, cosa stai facendo? Ehi Gian, cosa stai facendo?